sappiamo tutti che nel mondo degli effetti per chitarra lo spazio in pedaliera è di vitale importanza e ricordo quando più di 20 anni fa comprai la mia prima pedaliera e soprattutto ricordo l'emozione che provai nell'assemblarla con i tre o quattro effetti a pedale che avevo con il tempo le esigenze sono cambiate gli effetti sono aumentati e mi sono ritrovato a fare una scelta uno compare una pedaliera più grande o due togliere qualche effetto e se anche voi in passato vi siete ritrovati in questa situazione niente paura oggi vi porto sul canale il coltellino svizzero degli effetti a pedale una soluzione mancabile geniale che in un colpo solo migliorerà peso ingombro e versatilità della mia e della vostra pedaliera il tuner press della hot on avendo una pedaliera di dimensione media e non volendo assolutamente rinunciare alla versatilità degli effetti che uso da tempo sono stato costretto a togliere due pedali importantissimi il pedale di volume e l'accordatore temporaneamente l'accordatore l'ho sostituito con quella clip da mettere quindi sulla paletta ma ragazzi non mi piace esteticamente il pedale del volume invece l'ho proprio elevato e posto fuori dalla pedaliera da tempo però cercavo una soluzione che potesse racchiudere queste funzioni in un solo pedale e il tuner press è attualmente la soluzione che mi ha dato la maggiore versatilità è infatti un accordatore un pedale di volume un pedale di espressione e un buffer ma prima di vedere un'azione vi ricordo che se volete acquistarlo vi lascio sempre il link in descrizione se apparentemente il tuner press può sembrare piccolo e leggero pesa infatti solo 600 grammi sappiate che è stato progettato per un utilizzo live grazie proprio all'impiego di materiali leggeri ma resistenti la scocca infatti è in lega di alluminio il meccanismo e il collegamento è in acciaio e la superficie è satinata e soprattutto antiscivolo complessivamente quindi denota un gran senso di qualità e merito è anche dei potenziometri integrati che garantiscono una risposta precisa e secondo la casa dovrebbero garantire anche una lunga durata alla base del pedale troviamo infatti uno switch che permette di passare facilmente dal pedale di espressione al pedale di volume basta infatti una rapida pressione dell'interruttore per passare subito tra le due modalità lo switch poi è progettato in modo da far percepire con certezza il cambiamento di stato del pedale durante l'esecuzione specie quando si suona su un palco e attivare l'accordatore è semplicissimo basta sollevare il pedale per attivare automaticamente l'accordatura silenziosa e grazie all'ultimo algoritmo di oton l'accordatura è molto sensibile e precisa a livello estetico la cosa che salta subito all'occhio è il design che è quasi futuristico tutto bianco mi piace tantissimo ed è chiaramente ispirato alla famosa serie ampero press ma ciò che colpisce subito è lo schermo lcd hd che troviamo sulla parte superiore e che può mostrare l'accordatore o il livello del pedale di espressione devo dire che è molto intuitivo e molto preciso tra l'altro è messo in una posizione veramente strategica e si vede molto bene anche quando andiamo a poggiare il piede sopra se poi vedete è leggermente incassato in modo da proteggerlo da eventuali colpi e come dice il mio maestro solo il tempo ci dirà se è una soluzione valida la modalità di visualizzazione del display può essere personalizzata grazie all'apposito switch a tre posizioni nella modalità t più s l'accordatore si attiva quando il pedale è completamente sollivato e si spegne in altre posizioni quindi se non volete vederlo sempre acceso ma solo quando vi serve questa è un'ottima soluzione abbiamo poi la modalità t dove l'accordatore rimane sempre acceso qualsiasi sia la posizione del pedale se volete accordare ad esempio lo strumento senza dover per forza tenere il pedale sollevato questa è una soluzione e nella terza modalità t più p viene visualizzato l'accordatore quando il pedale è completamente sollevato e invece mostra la corsa del pedale in tempo reale nelle altre posizioni questa funzione è utile se avete delle posizioni memorizzate per un certo livello di volume o di espressione e volete avere anche un riferimento visivo molto pratico come vedete le connessioni ai vari pulsanti sono posti ai lati del pedale sul lato destro troviamo il jack d'ingresso da un quarto di pollici per collegare il proprio strumento e grazie allo switch posto dall'altra parte possiamo selezionare l'impedenza d'ingresso così da poter collegare non solo la chitarra o il basso ma anche eventuali synth o effetti l'altra impedenza infatti è adatta per l'ingresso di strumenti come chitarre bassi e quando il pedale si trova quindi all'inizio della catena degli effetti selezionando invece la bassa impedenza possiamo collegare effetti altri dispositivi e il pedale può essere posizionato al centro o alla fine della catena effetti molto versatile abbiamo poi il pulsante tuner con il quale possiamo decidere la modalità di accordatura cromatica o strobo e con il pulsante pitch possiamo decidere la frequenza di riferimento dell'accordatura da 430 hertz a 450 hertz considerate poi che la modalità strobo consente una precisione di accordatura di più o meno 0,01 centesimi di semitono e sempre sul lato destro in alto troviamo il connettore per l'alimentatore da 9 volt purtroppo l'alimentatore non è incluso e non è possibile alimentare il pedale a batteria però se avete un comunissimo alimentatore standard andate sicuramente tranquilli ragazzi ma se il video finora mi sta piacendo mi raccomando cliccate mi piace è doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale non vi voglio sappiate però che solo a 100 mila iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale sul lato sinistro troviamo i due jack di uscita indipendenti per il volume e per l'espressione e questa è una soluzione perfetta sia per gli effetti a pedale che per i multi effetti digitali se il tuo effetto ha un solo jack di espressione e desidera avere il controllo dell'espressione e del volume con un solo pedale sappi che il tuner press ti permette di farlo senza problemi c'è poi una spia luminosa che ci indica chiaramente se ci troviamo nella modalità volume o nella modalità espressione e infine c'è un'opzione per attivare o disattivare il circuito di buffer integrato per attivarlo disattivarlo bisogna rimuovere le quattro viti alla base del pedale e selezionare lo switch su on o off e sempre all'interno troviamo anche il connettore usb per un eventuale aggiornamento del firmware perché è importante perché il team di ricerca e sviluppo di otton garantisce nei prossimi mesi un pieno supporto all'aggiornamento delle funzioni del pedale vedremo il tuner press è un pedale che mi ha davvero colpito e che terrò assolutamente come primo pedale della mia nuova pedaliera che sto assemblando in questi giorni e che vi farò vedere a breve il costo è di 149 euro vi lascio come sempre il link in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto che non leggerò e se volete approfondire il modo degli effetti cliccate il link qui sopra non ve ne mentirete noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video ciao ragazzi e buona musica